A un suo fascino un groviglio di estranei, costretti insieme per giorni con nulla in comune a parte il bisogno di ricarsi da un luogo ad un altro che non si rivedranno mai più. Vedo il male su questo treno. Un passaggero è deceduto. L'hanno eliminato alla fine. Presumo che sia stato ucciso? No, 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 solo, soltanto che godeva di ottima salute, aveva dei nemici. Infatti, è stato ucciso. Buon Dio, un assassino qui? Ma c'è l'anima sua. Qualcuno frugava nella mia cabina nel cuore della notte, nessuno mi ha dato ascolto. Se c'è stato un assassino... Che succede? Allora c'è un assassino. L'assassino è tra noi. E ognuno di voi è sospettato. E lei chi è? Mi chiamo Hercule Poirot e sono probabilmente il migliore investigatore al mondo. M ambientale M ambientale M ambientale Msam è r Come a con localizzare M ambientale Grazie a tutti.